Rieccomi qui amici e amiche di TV6 e bentornati all'appuntamento col meteo per questo mercoledì 21 febbraio ebbene siamo entrati nell'ultima decade di questo mese di febbraio l'ultima anche dell'inverno meteorologico che per il momento ecco sta mostrando segni di stabilità notate infatti un'altra giornata soleggiata però ci teniamo a sottolineare che sarà una giornata di transizione sì bel tempo su gran parte d'Italia però l'aumento delle nubi alte che arriverà tra il pomeriggio e la sera a partire dal nord ovest sarà il preludio ad un nuovo peggioramento che sarà evidente a partire da giovedì soprattutto venerdì su buona parte d'Italia per quanto riguarda questo mercoledì dunque poco da dire sereno su tutto l'Abruzzo temperature elevate rispetto alle medie del periodo fino a 14 16 gradi nei valori massimi dalla sera nubi alte in aumento ma le nubi saranno ancora più presenti più dense nella giornata di giovedì e avremo anche un'intensificazione d'eventi da sud ovest per le piogge è probabile che occorrerà tendere quantomeno la giornata di venerdì se non addirittura il weekend con questo concluso noi ci vediamo nel prossimo appuntamento sempre qui su tv6 grazie a tutti